Grazie a tutti. Non autorizzate per questo a rischio denuncio. In Piazza Vittoria per protestare contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale sono scesi migliaia di persone ma a promuovere la manifestazione sarebbero stati insette. Ora rischiano l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da aggirarsi dai 103 ai 413 euro. Questo perché è mancato il preavviso di richiesta di manifestare al questore almeno tre giorni prima di scendere in piazza. Nessun rischio invece per chi si è limitato a partecipare anche se potrebbero essere sanzionati coloro i quali si trovavano in Piazza Vittoria senza mascherine e senza il rispetto della distanza di sicurezza. Il rischio è quello di prendere una multa fino a 400 euro. E a proposito di Green Pass, dopo il Green Pass per i cittadini arriva il tempo di applicazione della legge che prevede la sospensione di medici, infermieri e personale sanitario che ha deciso di non vaccinarsi. Ci siamo. Dopo il Green Pass per i cittadini arriva il tempo di applicazione della legge che prevede la sospensione di medici, infermieri e personale sanitario che ha deciso di non vaccinarsi. Le prime lettere sono state inviate lo scorso venerdì da TS Brescia e sono già arrivate i destinatari e le sospensioni dal lavoro scatteranno già nelle prossime ore. Questa quindi sarà la settimana decisiva, l'ultima per i medici e infermieri e sanitari in servizio per evitare la sospensione a stipendio zero. E lo potranno fare solamente vaccinandosi. Sono professionisti in servizio in tutti gli ospedali e cittadini, ospedali civili di Brescia, fondazione Poliambulanza, ospedali del gruppo San Donato, vale a dire città di Brescia, clinica Sant'Anne, clinica San Rocco e dome e strutture sanitarie. Il numero esatto dei professionisti sanitari che non si sono vaccinati non sono stati comunicati da TS Brescia, ma gli infermieri a rischio sospensione ad oggi sarebbero complessivamente su tutto il territorio provinciale un'ottantina. Gli iscritti all'ordine delle professioni sanitarie non vaccinati vengono definiti un numero considerevole, al momento non è stato reso pubblico ma si parla di qualche decina di professionisti. Nella giornata di martedì è stato convocato un consiglio direttivo dell'ordine che dovrà prendere atto della lettera inviata da TS a sospendere gli iscritti non vaccinati con effetto immediato. I numeri sono in continua evoluzione allo stato attuale da prendere con le pinze, la sospensione rimarrà in atto fino alla vaccinazione o al 31-12-2021 attuale data fissata dalla legge. Gli ispettivi ordini professionali, medici, infermieri, professioni, sanitarie, vengono qualche giorno di tempo, si parla di una settimana al massimo, per incontrare i destinatari della lettera, verificare che effettivamente non si siano sottoposti ad oggi alla vaccinazione e notificargli la sospensione dall'ordine di appartenenza e quindi di fatto l'impossibilità di esercitare la professione. A proposito di questo argomento, ieri pomeriggio abbiamo raggiunto il Presidente dell'Ordine, dei tecnici di laboratorio e professionisti sanitari Luigi Peroni che di lettere ne ha ricevute già una quarantina. Già da questa sera, o meglio da ieri sera e già dalla giornata di oggi dovrebbero arrivare le prime sospensioni. Sono arrivate una quarantina di comunicazioni individuali da parte di ATS su colleghi del nostro Ordine Tecnico Sanitario che non hanno ottemperato l'obbligo vaccinale. Noi stasera convocheremo il direttivo, analizzeremo le lettere una ad una e poi entro questa notte o domani mattina applicheremo nei loro confronti la sospensione dall'Ordine. Le comunicazioni ai datori di lavoro sono già state comunicate. La responsabilità sui comportamenti in servizio e l'approccio con il personale e la parte sanitaria è a carico delle aziende sanitarie. Io non so gli altri ordini, però se i numeri che rispecchiano il mio ordine sono quelli che rispecchiano anche gli altri ordini sono numeri molto bassi. Questo non toglie che uomini di scienza dovrebbero ottenersi ai dati scientifici, leggere i documenti, le documentazioni, vedere quello che succede. Sicuramente la vaccinazione è l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Questo ce lo dice la scienza, ce lo dice l'evidenza scientifica. Considerate che i presidenti degli ordini sono stati i primi a farsi vaccinare, pur non sapendo la ricaduta del vaccino il 27 di dicembre, eravamo convinti che se questa procedura funzionava era l'unica arma per rallentare il contagio. Ed è questo quello che è avvenuto e questo ci ha dato ragione e ha dato ragione anche al sottoscritto che ha fatto la scelta di vaccinarsi il 27 di dicembre. Al primo posto c'è e ci deve essere la scuola. Questo è il pensiero del consigliere delegato all'istruzione della provincia di Brescia, Filippo Ferrari. Al primo posto c'è e ci deve essere la scuola. Così si è espresso il consigliere delegato all'istruzione della provincia di Brescia, Filippo Ferrari, in vista della conferenza stampa del ministro Speranza, in programma la prossima settimana. È fondamentale, ha aggiunto Ferrari, che i professori e gli studenti siano vaccinati affinché sia scongiurata la possibilità di ricominciare l'anno scolastico in didattica a distanza o, peggio ancora, interrompere la didattica in presenza dopo qualche settimana di frequenza. Secondo il consigliere Ferrari, il nodo trasporti può essere superato solo con la copertura vaccinale di tutti i ragazzi e degli insegnanti. Sarà mia cura organizzare ancora incontri locali con i presidi delle scuole superiori bresciane per garantire una ripresa in sicurezza. Fondamentale per le istituzioni sarà permettere la riapertura delle scuole in tutta sicurezza. Non possiamo permettere che i nostri studenti perdano un altro anno di relazioni, di confronto, di condivisione a chiusato Ferrari. La scienza ci dice che il virus può essere combattuto solo in due modi, con il vaccino o con il lockdown. Promuoviamo la vaccinazione nella scuola. E cambiamo decisamente argomento, entriamo in tema di cronaca. Svolta nelle indagini sul ferimento con un colpo d'arma da fuoco di un 53enne elettricista incensurato, lo ricordiamo, avvenuto nella serata di sabato nel quartiere Viorino. A sparare, accidentalmente, secondo la sua ricostruzione, è stato il migliore amico. Svolta nelle indagini in merito ai due colpi di pistola esplosi nella serata di sabato sera davanti al Gigi Caffè di Via Violino di Sotto. A sparare sarebbe stato il migliore amico della vittima, ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Brescia, dopo essere stato ferito ad un fianco da una pallottola. A fare fuoco sarebbe stato un 53enne artigiano italiano. Ancora da chiarire i contorni della vicenda, in base alla testimonianza rilasciata dall'uomo davanti al sostituto procuratore titolare dell'indagine, il colpo che ha ferito in maniera grave Enrico Valotti sarebbe stato esploso in maniera del tutto involontaria. Nessuna aggressione e nessuna intimidazione. Dalle prime informazioni trapelate pare che l'amico di Valotti avrebbe acquistato una pistola qualche ora prima del ferimento, facendola poi vedere al titolare del locale e al migliore amico. L'uomo avrebbe dichiarato di aver esploso alcuni colpi in aria prima all'esterno del Gigi Caffè. Appoggiando poi la pistola su un tavolino all'esterno sarebbe involontariamente partito il colpo che ha colpito al costato Valotti. L'arma è stata recuperata in casa dell'aggressore sequestrata. L'uomo sarebbe stato arrestato e indagato a piede libero anche per tentato omicidio. E fra qualche giorno inizieranno i nuovi test sulla frana di Tavernola con tre università impiegate. Si valuta anche, pensate, la riattivazione della miniera cabianca. Sentiamo. Saranno avviati ad agosto i test sulle attività della miniera cabianca in seguito alla frana sul fronte occidentale del Monte Saresano a Tavernola Bergamasca. Lo ha comunicato l'assessore ad Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, rendendo noto quanto è stato deciso durante gli incontri con i rappresentanti dei territori interessati dall'emergenza. Lo stato della frana è monitorato con attenzione, ha spiegato Cattaneo. Questi test prevedono, fra l'altro, la ripresa graduale delle attività della miniera cabianca. I test sono necessari anche per affrontare gli effetti delle perturbazioni indotte dalle attività estrattive e dalle lavorazioni connesse sul movimento franoso presente, fa sapere la Regione. Questa decisione fa riferimento al programma di attività previsto dalle Università Bicocca e Politecnico di Milano insieme all'Università di Firenze, incaricate da Regione Lombardia per studiare il fenomeno franoso. Nello studio si fa riferimento all'ampiamento del sistema di controllo geotecnico con la collocazione di una rete di monitoraggio delle vibrazioni. Parliamo ora del Canone Rai perché potrebbe uscire dalla bolletta dell'elettricità. Draghi, il Premier sta per rottamare la riforma voluta da Renzi su spinta dell'Unione Europea. Novità in arrivo sul fronte del Canone Rai. La tassa per sostenere la televisione pubblica italiana, infatti, è destinata nel breve termine a uscire dalla bolletta dell'elettricità. Il Premier Mario Draghi rottama di fatto la riforma fortemente voluta dal suo predecessore Matteo Renzi, una decisione presa sulla spinta però dell'Unione Europea, che chiede per maggiore trasparenza di eliminare gli oneri impropri dalle bollette. Draghi ha raccolto questo impegno e lo ha fatto attraverso il PNRR, dove viene promesso ai venditori di elettricità di rimuovere l'obbligo di riscuotere somme diverse da quelle riferite alla vendita del prodotto stesso. Da 2015 tutti gli italiani pagano il Canone in bolletta, 9 euro al mese per 10 mesi, un totale di 90 euro annui. La misura era stata adottata per porre un freno all'evasione di questo balzello, che costava più di 100 euro annui e in molti evadevano senza troppe difficoltà o conseguenze. Se con il pagamento in bolletta l'evasione era stata ovviamente abbattuta, il prezzo era stato un aumento delle bollette e questo fatto non era affatto andato giù a Bruxelles, che non aveva lesinato critiche. Adesso una decisione in tal senso potrebbe arrivare, ma non da subito. Per un ritorno al passato serve infatti una decisione del governo che dovrà tornare a riscuotere autonomamente la tassa ed è un passo tutt'altro che immediato. Ed apriamo la pagina dedicata allo sport, facendo come sempre il punto anche sulle Olimpiadi, in particolare dei Bresciani. Questa mattina purtroppo sfuma il sogno di una medaglia nel judo per la Bresciana Alice Bellandi, mentre proda in semifinale di Canoa l'altro Bresciano di Roncadelle Giovanni De Gennaro. Permettetici comunque di fare un ringraziamento doveroso ovviamente ad un atleta come ha fatto tutta l'Italia. Anche noi ci uniamo a grazie grande a Federica Pellegrini che ci ha regalato delle emozioni per lei questa notte, settimo tempo, nell'ultima gara della sua carriera alle Olimpiadi. Cinque volte un'atleta davvero straordinaria. Il sogno olimpico dell'Igge Bellandi sfuma sul più bello. La judoca Bresciana non riesce infatti a qualificarsi per le finali del judo categoria a 70 kg. L'atleta della nazionale italiana non è riuscita a conquistare il pass per una medaglia lasciando il tatami in lacrime. Tanta è stata la delusione per un risultato sognato e sperato, inseguito e desiderato. Alice Bellandi è stata battuta nell'incontro di ripescaggio della croata Matic dopo essere stata battuta a sua volta dall'olandese Van Dijk ai quarti. La Bellandi ha dovuto dire addio, così, ai sogni di gloria. La judoca ci riproverà ora nella gara squadre. Nella mattinata che ha sancito l'addio alle gare di Federica Pellegrini, la Divina ha chiuso con il settimo tempo la sua quinta, finale dei 200 stili libero, mai nessuno nella storia come lei. Ottima prova di Giovanni Di Gennaro. Il canoista bresciano si è infatti classificato per la semifinale della canoa Slalom C1 vincendo la prima manche e conquistando un secondo posto nella seconda. Obiettivo concreto una medaglia venerdì mattina. La caccia al podio. Oggi giornata speciale in casa del Brescia perché spegne 65 candeline il presidente del Brescia Calcio, ovviamente il presidente Massimo Cellino. Questa sera ci sarà anche spazio per il calciomercato nella speranza, chissà, che il presidente, visto il compleanno, ci regali e si regali qualche colpo. Massimo Cellino spegne 65 candeline. Il patron del Brescia festeggia il suo quarto compleanno alla guida del club bianco-azzurro. Il numero uno di via Solferino ha fatto molto per il Brescia, l'ha riportato in Serie A dopo 11 lunghi anni, gli ha regalato anche un centro sportivo di proprietà tutto nuovo, ma allo stesso tempo non è ancora riuscito a dare una stabilità alla sua creatura. Cambi di allenatori, dirigenti, litigi con giocatori non hanno di certo fatto il bene del club. 65 anni vissuti quasi tutti nel mondo del calcio, Cellino resta uno degli ultimi veri imprenditori del mondo del pallone. Dalla favola Cagliari, passando per l'esperienza Leeds in Inghilterra fino ad arrivare al Brescia. Un compleanno che si rispetti merita uno più regali ed è quelli che va cercando sul mercato Cellino desideroso anche di accontentare il suo nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Il tecnico attende con trepidazione l'entrata in scena del presidente per rinforzare la squadra. Chissà se Cellino già nel giorno del suo compleanno estrarà il coniglio dal cilindro, regalando e regalandosi qualche nuovo innesto così da puntare ad un ritorno in Serie A. In Serie A non ci siamo, siamo in Serie B come Brescia Calcio. Vi do già l'appuntamento ovviamente con Diretta Stadio che seguirà come sempre tutta la stagione della cadetteria del Brescia. In particolare quest'anno sarà un anno molto speciale perché ci sarà l'introduzione del VAR o la VAR, dipende dai punti di vista ovviamente, all'interno del campionato cadetto. Quindi grande davvero novità per il campionato di Serie B. Ora è ufficiale. Anche la Serie B adotterà l'uso del VAR. Lo strumento elettronico a sostegno aiuto della terna arbitrale entra in funzione anche per il campionato cadetto. Dopo i test telecamere spente, tra cui un Brescia-Pescara, e l'utilizzo nei play-off, tra cui anche Cittadella Brescia, la Lega di Serie B ha ufficializzato l'introduzione del VAR nel campionato cadetto a partire dalla stagione ai nastri di partenza. Nella nota ufficiale si legge che il segretario generale, Marco Brunelli, ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri VAR e Avar per attivare la tecnologia anche nel campionato di Serie B e di conseguenza il consiglio ha approvato all'unanimità la delibera che certifica l'avvio della prima giornata della stagione 2021-2022. Ed è stata annunciata anche quella che sarà la partecipazione ovviamente del basket Brescia a Leonessa nella prossima Supercoppa. Andiamo insieme a fare il punto delle partite della squadra di coach. Alessandro Magro. La Lega Basket ha reso ufficiale il calendario delle gare della Supercoppa italiana 2021-2022. L'evento di apertura della nuova stagione della palla spicchi prevede una prima fase con quattro gironi di qualificazione da tre squadre ciascuno e una fase finale che sarà disputata all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Già qualificate di diritto quali test di serie l'Armani Exchange Milano, la Carpegna Prosciutto Pesaro, la Virtus Sega Fredo Bologna e la Eppi Casabrindisi. Inserita nel girone C insieme alla De Longhi Treviso e la Napoli Basket, la Germani Basket Brescia Leonessa esordirà nella competizione domenica 5 settembre al Palla Leonessa 2A contro Treviso per poi incontrare il team Veneto martedì 7 settembre sul parquet del Palla Verde. A seguire il doppio confronto con la neopromossa Napoli, sabato 11 settembre, la Germania ospiterà i partenopei al Palasport di Via Caprera, mentre per lunedì 13 settembre è fissata la sfida tra le mura del Palabarbuto. Prima di salutarvi facciamo un salto sul nostro sito internet www.elivebrescia.tv dove trovate tutte le informazioni di giornata, ovviamente sempre aggiornate, costantemente aggiornate alle notizie del nostro territorio, probabilmente da Brescia e provincia, non solo chiaramente Cronaca e quant'altro, ma abbiamo anche tanto sport, abbiamo parlato delle Olimpiadi, ecco qua appunto la notizia relativa alle lacrime di Alice Bellandi che purtroppo è stata eliminata mentre c'è grande attesa per Vanessa Ferrari che sarà in gara il 2 di agosto nella finale individuale del corpo libero di ginnastica artistica. L'informazione torna questa sera a partire dalle 19, dalle 18.35, spazio al calciomercato, saremo all'esterno del centro sportivo di Torbole Casaglia per raccontarvi anche il nuovo inizio, la nuova settimana di lavoro della formazione di Filippo Inzaghi. Grazie per l'attenzione, buona giornata.